A Caserta si svolgeranno molte gare, gare eliminatorie di pallavolo, di pallacanestro, di calcio, il tiro a volo. Caserta ha una grande tradizione sportiva in tanti sport ed è giusto che nel programma delle universiadi abbia trovato una collocazione ampia, anche perché dal punto di vista logistico è dotata di strutture di primo piano rispetto ad altre province. Per quanto riguarda proprio entrando nello specifico, di che cosa ha bisogno Caserta che ancora non è pronta per quanto riguarda le universiadi? No, ci saranno dei lavori di adeguamento. Per la verità il principio ispiratore dell'organizzazione delle universiadi è stato quello di non costruire niente di nuovo, di non costruire nuove cattedrali, ma di mettere a posto quello che c'è. Quindi l'opera che si farà sarà questa, adeguare tutti gli impianti a un evento internazionale, a un evento mondiale. Sicuramente l'Università degli Studi della Campania Luigi Van Vitelli collaborerà pienamente con le altre università coinvolte per portare il proprio contributo al meglio per la riuscita di queste universiadi. Considerate che le universiadi sono la celebrazione dello sport, tra l'altro, e lo sport diventa una delle colonne del benessere assieme alla sana alimentazione. Allora, se bisogna propagandare la sana alimentazione e l'adeguata attività motore fino all'attività sportiva, quale meglio occasione delle universiadi, dove sicuramente la università alla quale appartengo farà la propria parte. Grazie.